kimono andreina fin da piccolissima ho sempre sentito di appartenere al giappone e al suo popolo nessuno me ne aveva mai parlato ma io ero attratta fortemente verso il giappone al punto da non riconoscere mia madre e mio padre come miei genitori sapendo di essere figlia di giapponesi e mi spinsi a cercare di nascosto tra i documenti dei miei la prova che fossi stata adottata prova che naturalmente non trovai mai già all'età di due anni mi fu regalato un pigiamino con disegni e ideogrammi giapponesi dal quale non mi volevo mai separare e al mio primo carnevale all'asilo fui vestita con un kimono dalle suore perché i miei genitori non potevano permettersi di comperarmi un costume e dall'infanzia il mio amore per quel paese crebbe sempre più fino a diventare la consolazione alle mie tristezze per una vita non certo felice io sognavo ad occhi aperti i giardini orientali speravo di poterci andare un giorno e il più bello regalo per me sarebbe stato poter avere un kimono perché sapevo di averlo indossato e che era stata la mia vita quando andai in india le amiche mi convinsero a comprarmi un sari e le donne indiane che mi aiutarono a indossarlo in presa non facile mi dissero che lo portavo come un kimono commento tutto è dentro di noi non serve spostarsi abbiamo tutto a portata di mano non solo i nostri trascorsi di vite più o meno recenti ma anche e soprattutto il ricordo di ciò che siamo realmente e che ancora non riusciamo a mettere a fuoco ma appena saremo in grado di averne coscienza sapremo di essere tutte le nostre esperienze tutti i nostri sentire e sapremo di essere il tutto scomparendo come individui e quindi come testimoni a quel punto saremo beatitudine in confronto alla bassa condizione umana quei ricordi che ci vengono concessi che riaffiorano in certi momenti servono per farci capire che non esiste solo questa vita fine a se stessa che sarebbe inutile e senza senso e sono il primo passo verso un viaggio alla scoperta di noi stessi quali siamo veramente ma la verità ci deve arrivare a piccole dosi in pieno equilibrio e armonia per non sconvolgere le nostre menti che al contrario ci devono essere utili per accettare ciò che ci viene suggerito da quella parte di noi che ancora non riconosciamo per poi collaborare con il sentire e farci infine guidare da quest'ultimo che conosce una maggiore verità questi ricordi inoltre servono a far riaffiorare in noi più velocemente la verità che già abbiamo dentro e rendere più agevole e veloce il cammino quindi non serve andare nei luoghi dove si pensa di aver vissuto forse muoverebbe qualche emozione in più ma la cosa importante è sapere di non essere solo un punto morto ma un tassello del puzzle e l'intero puzzle questo ci aprirà all'evoluzione della coscienza grazie a tutti grazie a tutti